Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Un grave lutto ha colpito il mondo della televisione e della radio italiane, è venuto a mancare nelle ultime ore il noto conduttore italiano, che aveva 62 anni. L'annuncio è stato dato dalla stessa radio, che lo ha ricordato con un post sui social, definendola la sua seconda casa. Entrato a far parte del team di Virgin Radio nel 2012, ha raccontato al pubblico le follie dei grandi artisti rock con il programma We Will Walk You. Dal 2016 conduceva tutte le mattine Walk & Talk insieme a Maurizio Faulisi e Antonella Piroso. La sua carriera è stata ricca e variegata, è stato autore di numerosi programmi televisivi e giornalista, collaborando con testate nazionali e internazionali. Nato nel 1962 ad Asti, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della radio e del giornalismo. Ha lavorato a lungo per Radio Rai, conducendo numerosi programmi, ed è stato autore del Festival di Sanremo 2010, di The Voice of Eloli e di Scalo 76 per Mara Maionchi. Ha inoltre collaborato con testate italiane e americane, tra cui l'Espresso e Billboard. Stiamo parlando di Massimo Cotto, a cui vanno le più sentite condoglianze alla famiglia.